Giovanni De Bari, che è stato con noi a Sanremo un mese fa, quindi giovanissimo Giovanni De Bari. È un tenore e ci fa ascoltare quando c'è il temporale, quando c'è anche una situazione conflittuale interna, interiore, quindi il conflitto, cioè il temporale è un po' la metafora di questo conflitto, giusto? Sì, assolutamente. Bene, quindi siamo partiti bene anche quest'anno con tutte storie sentimentali difficili e disastrate. Giovanni De Bari quando c'è il temporale, prego. In bocca al lupo. E quando c'è il temporale, nel suo silenzio scopri che c'è ancora voglia di follia, che sia amore o quel che sia. E ti ricordi cose che, cose vissute insieme a me. Quando c'è il temporale, e ti ritorna il sole. C'era quel vento forte, venti di mare o ne che, trovano sempre nuova vita, una storia infinita. E non sai più tu cosa sei, cosa tu sei per lui o lei. C'era quel vento forte, sento nell'aria ancora. E non sai più tu cosa sei, tu cosa sei per lui o per lei. E non sai più tu cosa sei, tu cosa sei per lui o per lei. Io scopri che c'è ancora voglia di follia, che sia amore o quel che sia. E non sai più tu dove sei, cosa tu sei per lui o lei. Sei la più bella cosa che sento nell'aria ancora. E non sai più tu cosa sei, tu cosa sei per lui e per lei, eri il mare d'inverno ed estate, poi andasti via, ricordo la poesia ed un raggio di sole. Grazie a tutti. Poi andasti via, ricordo la poesia ed un raggio di sole. Bene, questo temporale termina con questo bel raggio di sole ad illuminare. Grazie, grazie a voi.